SAD e Codiano, i dubbi sul futuro dei dipendenti. Il sindaco Guercio scrive a Eda per il caso Buonabitacolo. Vaccinazioni ASL Salerno, tante le iniziative domani a Vallo Open Day per donne incinte. Sansa, l'ASL certifica che la carne di cinghiale è sicura e controllata. Sapri, mancata approvazione dei bilanci, arriva la diffida del prefetto, 20 giorni di tempo per provvedere o il consiglio comunale sarà sciolto. Musica a Lago Negro e a Sant'Arsenio, i protagonisti italiani del jazz. Buonasera e ben ritrovati al nostro appuntamento serale con l'informazione. In apertura Buonabitacolo, cosa ne sarà dei dipendenti comunali al momento impiegati nello spazzamento e nella raccolta e trasferimento dei rifiuti? E' questa l'incognita che sta rallentando il percorso verso la costituzione del SAD e Codiano. A sollevare in particolare il problema è il sindaco di Buonabitacolo Giancarlo Guercio, che ha scritto a Leda per chiedere chiarimenti in merito ai sette dipendenti del comune attualmente impiegati nel servizio. Si stringono i tempi per la costituzione del subambito distrettuale per la gestione dei rifiuti, ma ora, a distanza di cinque anni, emergono dubbi e incertezze sulle modalità di adesione, soprattutto in riferimento ai dipendenti su cui il sindaco di Buonabitacolo Giancarlo Guercio ha chiesto chiarimenti direttamente all'ente d'ambito, con una nota inviata lo scorso martedì. E' del 26 maggio 2016 la legge 14 della Regione Campania in materia di norme di attuazione della normativa nazionale comunitaria in materia di rifiuti, che ha definito la costituzione di subambiti distrettuali, individuando per il Vallo di Diano il SAD ecodiano. Il primo comune ad aderire fu Sala Consilina, che approvò la delibera adeguandosi alla legge regionale nel novembre dello stesso anno. Nel 2019 arrivarono poi le altre delibere. Nelle scorse settimane l'accelerata dell'Eda per procedere velocemente alla costituzione dei SAD, che laddove non avvenga porterà il servizio rifiuti ad essere gestito da Salerno. Martedì scorso i sindaci del Vallo di Diano, attraverso videoconferenza organizzata dal presidente della comunità montana Vallo di Diano, Francesco Cavallone, presso la sede dell'ente, hanno avuto l'opportunità di proporre i dubbi direttamente alla dirigente dell'Eda, Anna Paola Fortunato. Presente all'incontro anche il sindaco di Buonabitacolo, Giancarlo Guercio, che ha ribadito le sue preoccupazioni in merito al futuro dei dipendenti, come riportato nella nota. Il comune di Buonabitacolo aveva stabilizzato nel 2008 13 dipendenti, di cui gran parte inquadrati nella categoria A, come operai generici e addetti allo spazzamento, raccolta e trasferimento rifiuti. Mansioni che con il SAD sarebbero svolte direttamente dal nuovo ente e dagli operai che passerebbero alle dipendenze dello stesso. Buonabitacolo ha 7 dipendenti addetti a tale mansione. Da qui i dubbi del sindaco sul loro futuro. Nella nota il primo cittadino ha chiesto se i 7 dipendenti passeranno tutti in carico al SAD ecodiano, un'ipotesi che, secondo Guercio, incentiverebbe verso l'adesione. In caso contrario, si legge nel documento, vi sarebbe una seria difficoltà a collocare diversamente i 7 dipendenti comunali ex LSU. La gestione univoca dei rifiuti da parte del soggetto ecodiano, commenta il sindaco di Buonabitacolo, potrebbe rappresentare enormi vantaggi per il nostro comprensorio in termini sia di costi che di gestione effettiva del servizio. Tuttavia, vi sono degli aspetti specifici che vanno opportunamente analizzati e affrontati, come la questione del personale su cui ho avanzato l'interpello. Il caso di Buonabitacolo è emblematico. Nel 2008 furono stabilizzati ben 13 lavoratori socialmente utili, molti dei quali tuttora affidati al servizio di raccolta e trasferimento rifiuti. Trattandosi di operai generici, sarebbe difficile incardinarli in altri settori. Tante le iniziative messe in campo dall'ASL Salerno per portare le persone a vaccinarsi. C'è bisogno di fare un ulteriore sforzo quindi con camper davanti alle scuole, camper nei comuni periferici per aiutare la gente ad iscriversi e centri vaccinali dedicati ai soggetti allergici. Domani al San Luca di Vallo della Lucania, l'open day dedicato alle donne incinte e in allattamento. Ascoltiamo il responsabile dell'emergenza Covid dell'ASL, Saggia e Setozzi. Le sacche di resistenza alla vaccinazione sono articolate, diffuse, disomogenee. Per cui non si può fare un ragionamento generale, c'è un ritardo di vaccinazione perché le persone rifiutano la vaccinazione. C'è un ritardo di vaccinazione perché dobbiamo essere capaci di essere ancora più vicini alle persone e arrivare a vaccinare anche nelle realtà marginali dove questa situazione si crea. Per fare questo noi stiamo attivando in questo momento una serie di iniziative articolate sul territorio che coinvolgono sia le scuole, per cui i camper vanno nelle scuole davanti alle scuole, ma alcuni di questi camper andranno anche nei comuni, in questi comuni più marginali, per cercare di coinvolgere, aiutare e iscrivere, perché questa è una vecchia problematica. Molte di questi ritardi sono dovute alla difficoltà delle persone a iscriversi sulla piattaforma, a essere accompagnate alla vaccinazione. Dobbiamo fare uno sforzo, anche grazie al vostro contributo, per accompagnare le persone a vaccinarsi. Non c'è il diniego, c'è la difficoltà a farlo e dobbiamo farlo capire. Ci dobbiamo aiutare. Se ci aiutiamo tra noi in questo modo, probabilmente ne verremo a capo. Un'iniziativa in questo senso è quella che stiamo facendo. Mirata, venerdì, in cui abbiamo aperto, insieme anche a Ruggi, che fanno un'iniziativa simile, una giornata dedicata alle vaccinazioni delle donne incinte, delle donne in allattamento, per far capire, la facciamo a Valle della Lucania specifica, per far capire che non ci sono situazioni per patologie che escludono dalla vaccinazione, ma che anzi siamo pronti a mettere in piedi centri vaccinali dedicati, dove ci sono problemi allergi, l'abbiamo fatto a Battipaglia, lo stiamo facendo anche a Scafati, e momenti vaccinali dedicati, come questo per le donne incinte, che abbiamo attivato venerdì a Vallo della Lucania. E questa mattina il camper dell'ASL di Salerno, con la responsabile dottoressa Rosetta D'Alvano, era presente davanti all'Istituto di istruzione superiore di Teggiano per eseguire le vaccinazioni su ragazzi over 12, genitori e personale scolastico in vista della ripresa delle attività didattiche in presenza. Entra così nel vivo, anche nel Vallo di Diano, l'iniziativa dell'ASL per garantire scuole sicure ed incrementare la percentuale di persone immunizzate sul territorio. Questa mattina il primo appuntamento con numeri comunque ridotti di adesioni, considerando che al momento le presenze dei ragazzi sono in numero limitato ed i docenti sono in gran parte già vaccinati. Sono stati comunque circa 20 le persone che hanno usufruito della possibilità di potersi vaccinare senza prenotazione. Intanto si sta predisponendo un calendario di appuntamenti con l'unità mobile vaccinale che sarà presente davanti a diverse scuole valdianesi. Definito il prossimo appuntamento con il camper che sarà presente presso l'Istituto di istruzione superiore di Montesano Scalo sabato 11 settembre. E andiamo a Sanse sul Cervati dove la carne di cinghiale è sicura e controllata, lo certifica l'ASL Salerno dopo numerosi controlli effettuati nelle ultime settimane. Può dunque essere consumata dall'uomo. Vediamo il servizio. L'ASL ha certificato che la carne di cinghiale a Sanse sul massiccio del Cervati è sicura e controllata. E' infatti questo l'esito dei numerosi controlli effettuati nelle ultime settimane dal servizio veterinario dell'ASL di Salerno sui campioni analizzati relativi ad animali abbattuti da caccia-selettori nel comune di Sanse. La caccia al cinghiale è controllata dal servizio veterinario dell'ASL secondo le norme del Piano regionale di controllo sanitario dei cinghiali e vigilanza delle altre specie selvatiche. Finalizzato l'individuazione di patologie specifiche del cinghiale o che interessano anche altre specie di animali domestici o che addirittura possono essere direttamente trasmesse all'uomo. Queste indagini vengono effettuate non solo sui cinghiali abbattuti durante la campagna venatoria, secondo il calendario, ma anche sulla fauna selvatica rinvenuta morta inviata all'Istituto Zooprofilattico. Si tratta di un lavoro prezioso e importante che certifica la non presenza nelle carni di cinghiale abbattuti di larve di trichinella, un parassita vermiforme che migra nel tessuto muscolare e diventa infestante. Le carni di cinghiale, dunque successivamente all'esito dell'esame, possono essere consumate dall'uomo. La sovrappopolazione dei cinghiali dà problema per gli agricoltori, può quindi essere viceversa una risorsa per il patrimonio agroalimentare della comunità di Sansa e della campagna più in generale. I cinghiali abbattuti infatti vengono sempre controllati dal punto di vista igienico-sanitario all'atto della macellazione e dunque si può valorizzare la carne con una filiera che la certifichi con conseguente salvaguardia per la salute umana. A Montesano sulla Marcellana è morto l'ex sindaco, il dottor Antonio Manilia. Medico di base era stato per dieci anni dal 2001 al 2011 primo cittadino del paese termale. Le sequie saranno celebrate domani, venerdì 10 settembre, alle ore 10 nel santuario di San Francesco e Cappuccini a Montesano sulla Marcellana. Ed ora andiamo avanti, il prefetto di Salerno nei giorni scorsi ha inviato a diversi comuni salernitani la diffida per l'approvazione del rendiconto di bilancio 2020 e del bilancio di previsione 2021-2023. Diversi enti inadempienti nonostante la proroga del 31 luglio scorso. Tra questi anche Sapri con la minoranza che attacca duramente il sindaco e parla di comune allo sbando il servizio. Comuni del Salernitano diffidati dal prefetto ad approvare entro il termine ultimo di 20 giorni i rendiconti di bilancio 2020 e il bilancio di previsione 2021-2023. Pena lo scioglimento dei consigli comunali e conseguente commissariamento. Tra gli enti destinatari della diffida anche il comune di Sapri diretto dal sindaco Antonio Gentile suscitando la dura reazione dell'opposizione che ha parlato di comune allo sbando. Visto il protrarsi dell'emergenza Covid nei mesi scorsi dal governo erano stati prorogati termini per l'approvazione dei bilanci consuntivi anno 2020 e bilanci di previsione per il triennio 2021-2023 degli enti locali. Una proroga che superando la normale scadenza del 30 aprile concedeva ai comuni ulteriori 90 giorni, quindi 31 luglio, per provvedere all'approvazione degli atti in consiglio. In diversi comuni salernitani, quali ad esempio Salerno, Agropoli, Castellabate e insieme a Sapri, pare che la proroga non sia bastata ricevendo la diffida del prefetto russo. L'arrivo della nota ai consiglieri comunali di Sapri ha provocato l'ira dell'opposizione che ha ritenuto il provvedimento del prefetto l'ennesima mortificazione per la città di Sapri. Per Gentile, scrivono in una nota ai consiglieri di Sapri Democratica, evidentemente è stato tempo di bagni e festini, le sorti della nostra città potevano attendere. Per il gruppo guidato da Giuseppe Del Medico, la mancata approvazione dei bilanci dimostrerebbe leggerezza e approssimazione nella gestione della macchina amministrativa comunale. Siamo molto preoccupati e mortificati nel dover prendere atto dell'ennesima conferma dell'inadeguatezza di questa amministrazione, continuano dal gruppo che ha trascinato la città di Sapri ad un punto di malgoverno mai visto, ad un arretramento che ci rende sempre più ultimi e screditati. Si sta concludendo nel peggiore dei modi l'esperienza amministrativa di Gentile, sottolineano Durri in conclusione, è arrivata finalmente l'ora di voltare pagine e di costruire per la nostra città un nuovo percorso serio e credibile, che sia in grado di ridare a Sapri la credibilità e l'autorevolezza necessaria per ritornare ad essere capofila del Golfo di Policastro. Si attende ora a breve la convocazione dei consigli comunali per l'approvazione dei bilanci. Se ciò non dovesse avvenire entro il 30 settembre, il prefetto potrà decidere di provvedere allo scioglimento dei consigli comunali diffidati. Nel paese diversi docenti che si sono schierati contro l'obbligo del Green Pass, tra questi quattro accademici dell'Università di Salerno. Vediamo i dettagli nel prossimo servizio. Insieme alle illustri personalità del mondo universitario che hanno sottoscritto l'appello anti-Green Pass, anche quattro professori dell'Università degli Studi di Salerno. Infatti, tra i circa 300 insegnanti che hanno sposato la causa, compaiono le firme di Pierluigi Furcolo, professore associato di costruzioni idrauliche, Fabio Madonna, docente a contratto, Geminello Preterossi, ordinario di filosofia del diritto e Davide Tarizzo, associato di filosofia morale. Tutti e quattro facenti parte del corpo docenti di Unisa. La compagine salernitana, dunque, pronta a manifestare tutti i propri dubbi sulla bontà della certificazione verde lanciata dal governo Draghi e chi ha nel suo principale sponsor, il ministro della Salute, Roberto Speranza, almeno per quanto concerne il suo utilizzo in ambito accademico, con l'obbligo esteso a studenti e personale. Dal primo settembre, infatti, come stabilito dall'esecutivo, per frequentare le università italiane, sostenere gli esami e seguire le lezioni, si deve essere in possesso del Green Pass, un requisito che determina di fatto l'obbligo di vaccinazione. Per gli accademici ciò violerebbe i diritti fondamentali allo studio e al lavoro, in assenza, tra l'altro, di una piena assunzione di responsabilità da parte del decisore politico. Ed ora a linea la regia per qualche minuto di pubblicità. Ben ritrovati alla seconda parte del nostro telegiornale. Dopo le difficoltà organizzative dello scorso anno, torna Iros, il più grande evento italiano del bacino dell'euro mediterraneo, dedicato ad imprese ed innovazione. Tra i partner dell'iniziativa non poteva mancare la Banca Montepruno, che già in passato aveva sostenuto l'iniziativa condividendone il valore e gli obiettivi. L'evento si terrà il 10 e l'11 settembre a Potenza. I veli eroi di questo ventunesimo secolo tornano ad essere protagonisti di un grande evento promosso a Potenza e che vede tra i partner anche la Banca Montepruno, diventata ormai parte attiva dei progetti di valorizzazione e promozione delle eccellenze locali anche sul territorio lucano. Il 10 e 11 settembre torna con eventi dal vivo l'importante appuntamento dedicato ad imprenditori, start-up ed innovatori appassionati del digitale che si svolge ogni anno nel suggestivo centro storico di Potenza e che non a caso prende il nome di Iros, appunto Eroi. Per la realizzazione della due giorni dedicata al presente e al futuro, con protagonisti grandi nomi che si sono distinti come leader di imprese, investitori, manager ed esponenti di imprese start-up, la Banca Montepruno non poteva far mancare il suo sostegno, visto anche l'interesse mostrato negli anni verso quanti hanno creduto nell'innovazione ed hanno dimostrato grandi capacità nello sviluppo delle proprie imprese, soprattutto se provenienti da idee di giovani capaci e pieni di voglia di fare. Questa nuova edizione, che riparte dalla presenza e dall'approccio umano, tanto da essere dedicata alle connessioni umane, al networking e all'innovazione, prende il nome appunto di Human Connection e tra i primi interventi in programma venerdì 10 settembre alle ore 12.30 è previsto quello del direttore generale della Banca Montepruno Michele Albanese, che interverrà sul palco di Piazza Prefettura nell'ambito del talk dal titolo Riparti Italia, insieme all'assessore al Comune di Potenza Stefania Dottavio, all'onorevole Perretti di Confindustria Basilicata e il giornalista Sergio Ragone. Ritorniamo con entusiasmo, ha dichiarato il direttore generale albanese, a discutere di temi importanti e lo facciamo non a caso tra le strade cittadine, proprio come senso di connessione e condivisione con tutti. Siamo felici di poter nuovamente essere al fianco di questo grande contenitore culturale dell'innovazione che rappresenta, grazie all'impegno di tante professionalità che ci lavorano, una vera eccellenza di questa terra. Sarà una due giorni di grande spessore che si articolerà tra incontri e networking con panel e workshop aperti al pubblico e totalmente gratuiti. Da domani a domenica, 12 settembre, torna a Lago Negro e a Sant'Arsenio la rassegna i protagonisti italiani del jazz che ogni anno si svolge tra Basilicata ed il Vallo di Diano. Si rinnova anche quest'anno l'appuntamento in programma tra il Lago Negrese e il Vallo di Diano con i protagonisti più significativi della scena jazz italiana. Da domani fino al 12 settembre, infatti, andrà in scena la rassegna di concerti di fine estate denominata I protagonisti italiani del jazz, organizzata dall'Associazione Culturale Amici della Musica del Lago Negrese, operante nei territori della Basilicata sud-occidentale, del Vallo di Diano e della Calabria settentrionale, con lo scopo di promuovere la cultura musicale attraverso varie iniziative, tra cui concerti, corsi di alto perfezionamento, concorsi, mostre e convegni. Il primo appuntamento con la rassegna jazz è domani sera al Lago Negro, dove la manifestazione si chiuderà il 12 settembre, mentre sabato 11 il concerto sarà nel Vallo di Diano a Sant'Arsenio. Sul palco dell'auditorium della Centro Sociale di Lago Negro, domani sera alle 21.15 in scena il Brazilian Jazz Project, con Eddie Palermo alla chitarra, Felice del Gaudio al contrabbasso e Alessandro Marzi alla batteria. Sabato 11 settembre, sempre alle 21.15, al Teatro Comunale di Sant'Arsenio, si esibirà invece Hermanos a virtuoso guitar trio, composto da Francesco Cavaliere, Nico Di Battista e Max Puglia. A chiudere la rassegna il 12 settembre alle 21.15, ancora all'auditorium del Centro Sociale di Lago Negro, sarà Disco Swing, con Didi Gioia alla voce, Pepi D'Amato al clarinetto, Cosimo Maragno alla chitarra e Lario De Marinis al contrabbasso. Tutti gli spettacoli, fanno sapere gli organizzatori, si svolgeranno nel rispetto delle attuali normative anticontagio e dunque per l'accesso e richiesto il possesso del Green Pass e l'uso della mascherina. Si terrà sabato 11 settembre la seconda edizione del premio La Voce del Fiume, sempre a Brienza, all'interno dell'omonima dimora di Sharm di Rocchina Dobbato. Torna a Brienza il premio La Voce del Fiume, organizzato all'interno dell'omonima dimora di Sharm, che è un'esperienza imprenditoriale nata dal sogno di Rocchina Dobbato. Dopo la pausa, dovuta alla pandemia, ha deciso di riaprire le porte della sua dimora alla cultura, all'informazione, alla musica, organizzando la seconda edizione della prestigiosa onorificenza nazionale riservata a Lucani e non, che si sono distinti nel corso dell'anno in vari settori, dallo spettacolo alla musica, dall'arte alle professioni. Nelle intenzioni della madrina e promotrice Rocchina Dobbato, il premio vuole essere innanzitutto l'occasione per far conoscere il territorio e le sue peculiarità, le aziende che vi operano da anni per lo sviluppo del settore turistico. Sabato prossimo, 11 settembre, alle ore 19, a Brienza, riceveranno il premio dalle mani della giornalista Anna Maria Sodano, l'attrice Anna Rita Del Piano, la giornalista scrittrice Imma Vitelli, il soprano Paola Francesca Natale, lo stylist Giovanni Ciacci e l'imprenditore Fabrizio Tarricone. La serata sarà lietata da un quartetto d'archi che eseguirà musiche da film. Alla premiazione, che si terrà all'aperto in piazza del sedile, nel centro storico seguirà una degustazione di prodotti del territorio sui terrazzi della dimora di Charm, che ospita la voce del fiume, incassonata nel cuore del borgo metevale di Brienza, all'ombra del castello Caracciolo. E per oggi è tutto, grazie per essere stati con noi, vi auguro buon proseguimento di serata.